Ciao a tutti quanti, sono Giacomo Laser, vi sto per raccontare una storia incredibile, un progetto sociale stupendo che mi hanno commissionato i ragazzi Popix, Edoardo Camurri e altri, e adesso vi spiego un po'. Eccoci qua, vi faccio vedere, questa è la vigna che è stata acquistata dai Popix e da altri, Edoardo Camurri, per il progetto di regione civica Primi Passi per l'alcol. Che cos'è i primi passi con l'alcol? È un progetto sociale nel quale vengono inseriti dei ragazzi molto ricchi a lavorare le vigne, per farli provare a terra, e questo vino verrà poi messo sul mercato per bambini dai 12 ai 14 anni. Questo qui è il muro della costruzione che ospiterà i ragazzi ambienti che lavoreranno per noi, per il progetto I primi passi con l'alcol, questa è l'azienda, c'è anche un lago.